Ecco questo è proprio uno di quei restyling dove voi non ci crederete mai ma uscirà fuori un qualcosa di super romantico Ma prima bisogna sistemare i piedi Una buona colla, la mastro d'ascia e si inizia incollando la base Parto con due freggi bellissimi Oggi utilizzerò il rocher con l'aggiunta di polvere Magic Star per fare una base che poi ovviamente verrà coperta con un altro colore Seconda mano di rocher materica su tutta la struttura Il colore per antunomasi del romanticismo Magic Paint è vintage rosa Iniziamo a stendere una mano di colore puro dappertutto È arrivato il momento di decorare con questo stencil bellissimo Adesso farò un décapé con la mia nuova levigatrice È ora di proteggere È arrivato il momento di anticare e utilizzerò la cera liquida pigia e marrone Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto Al prossimo restyling Ciao Grazie 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 Grazie